Quando è entrato nella chiesa del Gezzemani per incontrare sacerdoti, religiosi e seminaristi della Terra Santa, nella penultima tappa del suo pellegrinaggio, Papa Francesco ha pregato sulla pietra che secondo la tradizione raccolse le lacrime e le gocce di sudore misto a sangue di Gesù nell'orto degli olivi, prima di essere arrestato. Quindi nel suo discorso il Papa ha invitato tutti i consacrati a non lasciarsi vincere dalla paura e dallo sconforto, perché Gesù non ci lascia mai soli. In questo luogo ha detto «Domandiamoci chi sono io davanti al mio Signore che soffre». «Sono di quelli», ha detto il Papa, «che si addormentano, fuggono o lo rinnegano per paura? C'è forse in me la doppiezza, la falsità di colui che era stato chiamato amico eppure ha tradito Gesù?» Oppure ha aggiunto «Mi ritrovo tra coloro che sono stati fedeli sino alla fine, come la Vergine Maria e l'Apostolo Giovanni?» Infine Papa Francesco ha salutato tutti i cristiani di Gerusalemme, consapevole delle difficoltà della loro vita nella città, esortandoli ad essere testimoni coraggiosi della passione del Signore, ma anche della sua risurrezione con gioia e nella speranza. Al termine dell'incontro il Pontefice ha piantato un piccolo olivo vicino a quello messo a dimora da Paolo VI il 4 gennaio del 1964.